ciao stefano intanto benvenuto a frosinone come ti stai trovando qui e con i compagni di squadra nuovi se conoscevi già qualcuno prima del tuo arrivo buongiorno a tutti sono sono contento di essere venuta frosinone una società così importante mi sto trovando mi sto trovando veramente bene compagni non li conoscevo ci avevo già giocato contro diciamo che conoscevo un po vic perché giocava salò che è vicino a casa mia brescia ed è l'unico che ho giocato contro diciamo gli ultimi anni quello che conoscevo meglio poi sono fortunato che ho già avuto l'ello che lo conosceva da brescia quindi sono contento che mi abbia cercato lui adesso sta a me ripagare questa fiducia ecco una carriera importante la tua in b e a frosinone per fare un po la chioccia oppure per scalare proprio le girarchie ma io sono sempre stato abituato a giocarmela anche quando giocavo sempre avuto colleghi che sa che sa volano giocare con me anche perché d'aiuto per chi gioca e perché non mi accontento mai fa parte del del mio spirito quindi sono quadro tutto me stesso poi qualche sarà sarà ecco ci racconti un po come è nata la trattativa con il frosinone ma è nata che ero a casa e ma ma chiamata appunto l'ello senatore mi fa ero convinto fossi rimasto a perugia perché l'anno scorso è stato a perugia sono entrato alla fine abbiamo fatto una rimontata è andata andata benissimo invece poi hanno fatto altre scelte ma chiamato mi fa dal momento che era casa erano due portieri ne servì un altro mi fa se vuoi venire qua a giocarcela pensaci ci ho pensato veramente manco mezza giornata e accettato subito cosa porti della tua esperienza passata qui a frosinone diciamo che sono fortunato perché ho già fatto diverse partite in b anche se gli ultimi due anni sono stati in serie c però in piazza in piazze molto importanti c'è c'ho tanta esperienza credo perché ho fatto breccia da giovane non assicuro che che una piazza abbastanza abbastanza calda abbastanza difficile a bresciano e quindi sono già abituato hai avuto modo di vedere già il frosinone qui in casa contro contro il brescia e quindi di conoscere la tifoseria un tuo giudizio su di loro e non solo su loro ma anche se hai avuto modo di conoscere bene sicuramente si mister grosso cosa vi siete detti di cosa avete parlato ma tifoseria la conoscevo già anche perché qua avevo fatto diciamo non il mio esordio ma era la prima partita di un campionato che iniziavo titolare anche se era sera al matusa però mi ricordo era una bolgia perché eravate appena saliti dalla serie c è una bolgia la curva il frosinone quindi adesso c'è questo gioiello bellissimo stadio ed è bello non aspettiamo che sia pieno che che si possa venire però già già così tifosi si sentono ecco e col mister non ci ho parlato più di tanto ma fatto in bocca al lupo che sono arrivato ma mi hanno parlato tutti bene perché essendo stato anche lui a brescia quindi un po un po sapevo già e sono contento di essere qua ecco che tipo di campionato invece è questa serie b e come lo vede ad orizzonte se ci sono squadre secondo te pauri di rispetto ad altre come vede il frosinone credo che è un livello equilibrato rispetto agli ultimi anni ci sono tantissime squadre adesso per esempio sta andando bene il pisa che magari a inizio campionato nessuno se lo poteva aspettare però la serie b è questa ci sono sempre le sorprese è sempre un campionato difficile dove puoi vincere con la prima puoi perdere con l'ultima è un campionato a posto ecco l'ultima come ti stai trovando invece a frosinone città e si è avuto modo di riuscire un po di conoscere la gente per strada sono sincero che ho girato un po poco perché sono arrivato da due settimane quindi ero un po in hotel ho trovato ora a casa e l'ho vista veramente poco quindi non la conosco benissimo però mi sembra una città tranquilla e che la cosa che mi ha colpito è che quando va in giro cioè si respira calcio che anche la gente la vedi che c'è un grande calore per questo maglia ecco grazie